Innanzitutto buongiorno e grazie all'amministrazione comunale di Tavullia per essere qua nella Palazzo Raffaello, la sala Raffaello, per presentare questo evento che chiamare regionale mi sembra molto ridottivo. È un evento internazionale, è un evento che riconosce il straordinario percorso di Valentino Rossi e il legame con la sua città e la regione non può che sostenere un evento del genere perché siamo orgogliosi per Tavullia, per la sua comunità e per chiaramente Valentino Rossi, lo staff e tutti i tecnici. In questo senso però siccome lo sforzo enorme, devo dire, l'intuizione l'ha avuto il sindaco Paolucci e l'amministrazione comunale, io le passerei subito la parola in maniera tale che ci illustra il programma, ci racconta le motivazioni, le suggestioni e anche gli obiettivi che si prefigge Tavullia con questo riconoscimento e con questa manifestazione. Bene, grazie Presidente, intanto per essere qui con noi, per averci ospitati, è la prima volta che facciamo una conferenza stampa in regione, quindi vuol dire che per noi è una cosa importante. Lo sforzo che stiamo facendo organizzativo di questo evento, che dirò subito da dove nasce, perché nasce e perché è indispensabile farlo. Dicevo, lo sforzo è enorme perché comunque siamo un piccolo comune e senza in questo caso il sostegno e la collaborazione della regione non avremmo potuto nemmeno pensare di farlo. Tutto nasce perché Valentino Rossi è il nostro concittadino, sicuramente il più illustre, ma come dico sempre è un cittadino del mondo, non è una persona che si può contenere. Noi siamo molto orgogliosi di averlo tra i nostri residenti da sempre. Valentino è nato e cresciuto a Tavullia, ha deciso, dopo tanti anni di carriera sportiva, per la quale è stato definito una leggenda dello sport, e avrebbe potuto vivere in qualsiasi parte del mondo, come fanno poi tanti, giustamente, e ha scelto di vivere a Tavullia, nella nostra regione. Quindi sappiamo anche che il nostro piccolo comune di neanche 8.000 abitanti nella regione Marche ospita non solo Valentino Rossi, ma grazie a Valentino Rossi tanti altri campioni dello sport, Franco Morbidelli che è già stato campione del mondo, Luca Marini. Adesso tra i residenti abbiamo anche Celestino Vietti, abbiamo la frequentazione di tutti i piloti dell'Academy. Quindi c'è stato un momento in cui tre piloti del moto mondiale, su 22, 23, non so quanti siano, risiedono a Tavullia. Sarà l'aria, sarà l'ambiente, saranno le curve, le strade, comunque è una passione che, devo dire, abbiamo tutti, quella dei motori, della velocità. Allora è arrivato il momento di rendere un omaggio, un riconoscimento importante a Valentino, che comunque è tra i nostri residenti, quindi la cittadinanza ci sembrava riduttiva. Abbiamo un po' guardato le varie regole istituzionali e abbiamo deciso di donargli le chiavi della città. Le chiavi della città è un riconoscimento che arriva dal Medioevo e qui un collegamento lo faccio alla nostra parte storica, il nostro è un borgo medievale e spero che verrà apprezzato anche dagli enti che governano questo aspetto storico e le chiavi delle città venivano donate al conquistatore o alle persone che avrebbero potuto decidere le sorti di quella città. Le sorti di Tavuglia, da 25 anni di carriera sportiva di Valentino, 9 titoli mondiali, credo che siano già state decise. Lui stesso è stato il più grande promotore dei valori del nostro territorio e lo ha sempre fatto con grande passione, ha sempre detto da dove arrivava e quindi questo comune piccolo, questo Tavuglia, è arrivato in tutte le parti, in tutti gli angoli del mondo. Se si viaggia in qualsiasi parte del mondo, si vada, c'è sempre qualcuno che ha un cappellino col 46 o un adesivo attaccato a una macchina. Io ho trovato a Zanzibar il tassista con il cappellino 46 e gli ho detto ma chi te l'ha dato? E quindi si trovano queste cose che ti emozionano perché ovunque trovi qualcosa di Valentino. Allora non possiamo non riconoscergli, così come l'università di Urbino gli aveva conferito la laurea per la sua capacità comunicativa, che è stato un valore aggiunto in un talento sportivo a quel livello. Siamo arrivati a questo momento, finita, sono ormai due anni che si è ritirato da una carriera spettacolare direi nel motociclismo. Adesso si è dedicato ad un altro sport nel quale ha degli ottimi risultati anche lì. E comunque sta continuando, abbiamo un team che proviene da Tavuglia, il team 1i46 viene da Tavuglia con tante persone che lo gestiscono del nostro paese. Avevamo deciso come sapete di organizzare questo evento per il 19 di maggio, però gli eventi direi anche tragici che sono accaduti nella vicina Emilia Romagna ci hanno portato a rinviare l'evento con chiaramente con tutto il contesto organizzativo e la presenza di Valentino che ha condiviso la decisione. E siamo arrivati alla settimana del Gran Premio di Misano, quella dove noi ogni anno dedichiamo sempre una festa che si chiama Tavuglia in moto proprio in prossimità del Gran Premio perché saprete che a Tavuglia c'è un pellegrinaggio continuo, noi lo definiamo pellegrinaggio senza offendere o ledere assolutamente altri contesti ma tantissime persone arrivano a Tavuglia tutto l'anno, in particolare la stagione estiva, in particolare la settimana del Gran Premio di Misano quindi quello della Repubblica di San Marino della Riviera e vengono a Tavuglia per vedere i luoghi, gli ambienti, le strade, il contesto in cui è cresciuto Valentino e soprattutto sperando di incontrarlo. Fanno ore e ore di attesa all'ingresso del Ranch dove i ragazzi dell'Academy si allenano vanno allo store di Valentino che è particolare ed è anche molto bello, vanno a vedere la sede della VR46, insomma il suo mondo. Il 7 settembre dalle ore 17 inizierà questo evento all'inizio con un intrattenimento musicale con dei DJ chiaramente ci sarà la presenza di diversi amici di Valentino tra cui uno di questi DJ, DJ Ralf che è conosciutissimo tranne da... non lo dico... forse io ho un'età in cui non è più così, non lo so... comunque famosissimo DJ Ralf e alle 20.30 inizierà la serata con la presenza di Valentino Rossi sul palco, ci sarà una diretta di Sky che ha, come posso dire, ha condiviso l'importanza di questo evento straordinario perché la presenza di Valentino sono tanti anni che non l'abbiamo e per tante ragioni, principalmente dovute a un tema di sicurezza personale e con i presentatori che sono gli storici cronisti della MotoGP, quindi Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini. Durante la serata ci saranno diversi ospiti, non abbiamo comunicato precisamente la scaletta perché sarà un po' una sorpresa e posso solamente dire che la partecipazione di tante autorità, di tante personalità che abbiamo invitato e che ringrazio fin da ora per aver accolto il nostro invito, se posso Presidente, a partire dal Ministro dello Sport che ci ha dato conferma della sua presenza, il Presidente del CONI Malagò, il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Copioli e anche il Presidente della Federazione Internazionale, José Viegas, oltre a Carlos Espeleta della Dorna. Quindi questo mondo, per citarne alcuni, poi non sto qui magari a elencare le presenze, questo è diventato quindi un evento internazionale e solo lo share di Sky, che conta 4 milioni e mezzo di abbonati, porterà la nostra regione ad essere vista su Sky Sport con Valentino Rossi, credo da milioni di persone. Spero, ritengo, che dimostreremo di essere all'altezza dell'evento perché veramente abbiamo delle forze limitate e è sempre colpa del sindaco quando le cose non vanno bene ed è sempre merito degli altri quando vanno benissimo. Non dividere le responsabilità. Ma pagari! Questo sarebbe una delle rarissime volte in cui qualcuno si offre di portare il peso, no? Io credo di aver detto tutto. Io passo la parola all'assessore Biondi, poi all'assessore del Comune di Tavuglia, Federici, e poi aggiungo solo una cosa che credo sia dovuta perché immagino che per Tavuglia ma anche per la nostra regione un evento del genere è un evento che, come hai detto tu, è globale. Parliamo di una leggenda dello sport, è una leggenda dello sport che per tantissimi anni ha non solo vinto sulle piste ma è stato ed è un personaggio assolutamente travolgente e una leadership sul suo settore indiscursa e quindi tutti noi ci sentiamo molto piccoli davanti all'evento del genere e quindi quello che stiamo facendo lo stiamo facendo nella speranza di essere all'altezza dei successi di Valentino Rossi. Chiara? Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io da assessore non solo allo sport ma in questo caso da anche assessore alle politiche giovanili e all'istruzione mi piace sottolineare un aspetto appunto di questo grande campione. Il fatto che lui abbia proprio voluto istituire nella sua città un'academy che è appunto rivolta a giovani piloti quindi per trasmettere a questi giovani ragazzi innanzitutto la passione per uno sport, uno sport sano così come lo sport è e come è un modo anche sicuramente anche per trasmettere a questi ragazzi dei sani valori e perché no di comunque insegnare loro diciamo ad approcciarsi ad uno sport appunto il motociclismo che comunque richiede anche una certa sicurezza. Quindi credo che a questo grande campione oltre ovviamente ai tanti successi personali che ha riportato in ambito sportivo vada riconosciuto anche questo ulteriore merito quindi lui si è assunto anche questa responsabilità di trasmettere appunto ai giovani piloti il suo saper fare e sicuramente anche diciamo credo che i valori che solo un grande campione come lui sa trasmettere. E' ovvio che per la nostra regione è un evento credo grande, immenso e questo va reso il merito sicuramente appunto al sindaco che ringrazio anche per questo gesto significativo perché consegnare le chiavi di una città ha un valore importante e sono convinta che il personaggio lo meriti molto. Grazie. Buongiorno, anch'io a nome dei cittadini di Tavuglia voglio ringraziare il presidente Acquaroli per l'aiuto che ci ha dato per l'organizzazione di questo evento straordinario che come diceva il sindaco verrà visto da milioni di persone ma vorrei, non ho altro da aggiungere su Valentino perché tanto ormai Valentino lo conosciamo tutti sappiamo quello che ha conquistato vorrei solo aggiungere che oltre a Tavuglia Vale il 9 di settembre ci sarà Tavuglia in moto che quest'anno è un prolungamento di Tavuglia Vale anche in questa occasione abbiamo degli eventi importanti il primo fra tutti il Festival Benelli perché dal lunedì successivo partirà Benelli Week a Pesero e durerà una settimana quindi ci sarà un'anteprima a Tavuglia dove verranno presentate tutte le moto dalla prima che è stata prodotta all'ultima quindi con una prima parte di tutte quelle moto antiguera e successivamente quelle costruite dopo la seconda guerra mondiale quindi sarà anche questo un evento importante una collaborazione che abbiamo con il registro storico Benelli di Pesero molto importante che ogni anno ci vengono sempre in aiuto quando abbiamo bisogno di realizzare qualcosa di importante ci sarà oltre a questo ci sarà un evento dove vedrà come protagonista di Di Bizzaro uno stuntman uno dei più importanti d'Italia la controfigura per eccellenza nei cinema italiani quindi farà due bei spettacoli al pomeriggio e alla sera ci sarà un bellissimo concerto con artisti internazionali dove ci sarà come special guest Steve Bansi il chitarrista di Vasco Rossi il chitarrista per eccellenza di Vasco Rossi e a conclusione un bello spettacolo pirotecnico e bomboloni alla crema offerti dall'amministrazione a tutti i partecipanti alla crema per la dieta esatto quindi ringrazio nuovamente e lascio la parola posso aggiungere solo una cosa abbiamo fatto costruire la chiave veramente particolare sarà unica anche perché grazie a Dio tra gli sponsor c'è anche l'azienda che la produce in titanio è un materiale molto conosciuto nelle corse nell'aerospaziale quindi crediamo che Valentino apprezzerà anche solo per questo pensiero o pensata come dicono i siciliani va bene se non ci sono domande noi vi ringrazieremo per essere stati presenti e per insomma l'attenzione che ci avete dedicato e vi aspettiamo il giorno 7 dalle ore 17 a Tavuglia anche un po' prima ecco ok grazie scusa mi hai fatto perché abbiamo stiamo gestendo la situazione delle presenze noi apriremo la festa alle 2 perché la mattina ci sarà un controllo della commissione eccetera alle 2 si inizia a far entrare le persone bisogna iscriversi a TavugliaValle.it devo dire che a breve chiuderemo anche le iscrizioni perché raggiungiamo qualche migliaia di iscritti i residenti non si devono iscrivere quindi dalle 2 in poi consigliamo agli iscritti di arrivare entro le 16.30 perché poi non potremo più garantire l'accesso per l'esubero insomma del numero di partecipanti che la commissione di sicurezza ci ha imposto e penso Noi abbiamo avuto un out-out considerati metri quadri di adesso dopo i fatti di Torino chiaramente tutto molto più stringente dobbiamo stare nelle 7.000 presenze oltre a tutti gli operatori volontari stand e residenti quindi abbiamo una cifra che va contata in tempo reale per dare modo all'ordine pubblico di devo dire 7.000 Io volevo chiudendo proprio ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale perché con questo coinvolgimento ci rendete particolarmente orgogliosi e rendete anche particolarmente orgogliosa tutta la comunità marchigiana davanti ai successi che Valentino Rossi e Tavuglia hanno portato Valentino Rossi e Tavuglia ad essere insomma conosciutissimi in tutto il mondo quindi veramente quello che dicevi prima sindaco è vero il legame tra la sua città e i suoi successi è un legame che tutti conoscono e riconoscono e noi siamo orgogliosi di poter insomma essere parte di questo festeggiamento va bene ci siamo grazie a tutti grazie a tutti